Sindaco di Donato, poche ore fa è apparso sul suo profilo Facebook il messaggio in cui comunica ai suoi follower la candidatura a consigliere regionale per le prossime elezioni. Sì, una decisione che era nell'area. In verità, già da mesi era maturata questa volontà da parte mia di scendere in campo a fianco di una persona importante come il Presidente Nellini. Ho condiviso da subito il suo progetto, un progetto molto ampio, un progetto che va oltre gli schieramenti politici, un progetto che pone al centro l'Abruzzo, l'Abruzzo in tutti i sensi, i cittadini, che pone l'accento sui sindaci, sulle problematiche dei sindaci, che possono portare nei tavoli, che contano le vere stanze che i cittadini hanno. E ho condiviso questa linea, questa linea che abbraccia di tutto, abbraccia tutte le forze politiche che hanno condiviso, che ci sono anche esponenti notoriamente di centrodestra, esponenti notoriamente di centrosinistra, ma che fondamentalmente ha nel cuore quello di portare avanti un progetto senza confini. E questa idea mi è piaciuta tantissimo, l'ho condivisa. L'ho condivisa perché si basa su dei criteri importanti. In primis mi è piaciuta l'umiltà, l'umiltà di come ci siamo visti, diciamo, coinvolti da parte del Presidente De Nini, l'umiltà del progetto, la semplicità e anche e soprattutto il fatto che il Presidente ha voluto dare attenzione molto alla gente. E questa cosa veramente mi ha fatto molto piacere. Non ho notato una polemica da parte del Presidente, ho notato la capacità di condividere ciò che di buono è stato fatto da tutti i governi precedenti, destra, sinistra, di prendere ciò che era buono da tutte le parti e di prendere e di migliorare ciò che è da migliorare, perché c'è tanto da migliorare. E dove si parte? Si parte proprio dall'ascolto dei cittadini, dall'ascolto della gente. E un Presidente Regione passa inevitabilmente per gli amministratori. E oggi c'era un entusiasmo enorme in quella sala, ho visto tantissima gente, ho visto un entusiasmo, ha ridato veramente serenità e soltanto questo merita la discesa in campo, merita la discesa in campo mia, merita la discesa in campo di tanti colleghi e soprattutto per dare un messaggio anche all'Italia, un messaggio di un rinnovamento fatto nella serietà, nella capacità delle istituzioni di essere rispettate e di farsi rispettare. E anche e soprattutto nel porre sempre l'attenzione ai problemi della gente, perché sono loro il vero traino, il vero motore che tutti noi non dobbiamo mai perdere di vista, perché noi dobbiamo sempre esclusivamente ascoltare, ascoltare i cittadini, ascoltare le loro problematiche. E questo progetto è il progetto del Presidente dell'Ini, è un progetto ambizioso, è un progetto grande, un progetto che è visto con grande attenzione a livello nazionale. C'è veramente un'attenzione importante che dobbiamo tutti quanti noi vedere anche con buon occhio, in questo momento in cui si dicono e si scrivono tante cose non vere, dove la polemica è all'ordine del giorno sui social, dove il rispetto delle persone non c'è. E qui ho notato veramente che c'è tutto questo e per questo la figura di Francesco Idonato si sposa bene con questo progetto. Come pensa in caso di vittoria di poter coniugare entrambi le cariche, quello di sindaco ed eventualmente di consigliere regionale o assessore? Io innanzitutto mi sono candidato perché mi lega una profonda amicizia con il Presidente Legnini, perché mi è stato chiesto insistentemente, perché ha apprezzato il lavoro di Roccaraso non soltanto ma di tutto il territorio dell'Alto Sancro, ha visto questo modello di tutti i comuni, di tutto il nostro territorio come un modello vincente, un modello che ha portato risultati, ha visto cittadini, imprese con pagine sociale, amministratori, ha visto gente che è disposta al sacrificio e ha portato risultati. E lo ha chiesto e questa candidatura mia si basa su questo. Il risultato se viene siamo contenti, siamo competitivi, questo è scontato, non ci terremo entrieto dalla lotta politica e siamo convinti anche di fare un bel risultato perché l'immagine che è stata data in questi anni è un'immagine forte e c'è un consenso nella provincia dell'Aquila e in Abruzzo che è tangibile, evidente, che porta veramente a ben sperare. Ma non è quello l'importante, l'importante è che vinca questo progetto, che vinca il Presidente Legnini, che senza ombra di dubbio darà risalto, prestigio e darà quella considerazione a questo territorio che merita. Il mio passaggio sul Comune di Roccaraso è assolutamente un passaggio che possiamo definire tranquillo, non crea nessun problema, non esistono incompatibilità di legge, ma esiste solo una compatibilità di voglia di lavorare. Rimarrò sindaco di questo bellissimo Paese, sarò a servizio di un territorio più ampio, se il territorio lo vorrà naturalmente, e sono convinto di portare avanti tutte le stanze importanti che questo territorio ha a disposizione, che deve avere a disposizione. Fino a qualche mese fa il Senatore Legnini ha rappresentato la quarta carica dello Stato. Che effetto le ha fatto essere considerato da un uomo delle istituzioni? Beh, un effetto importante vuol dire che c'è apprezzamento sul lavoro fatto, ma non solo mio, ripeto, non è un lavoro mio, è un lavoro di tutti. È un lavoro fatto da tutti i cittadini di questo territorio, da tutti gli amministratori, da tutti gli imprenditori. È un lavoro che il grazie va a tutti quanti loro. Ha un effetto importante sicuramente di commozione, oggi non nascondo di essermi commosso nei confronti di un Presidente che ha annunciato lui la mia candidatura dal palco. E questo mi riempie di orgoglio. Lui ci crede, ci crede in questo territorio e dobbiamo essere uniti in questo progetto. Sono convinto che possiamo fare del bene. I temi li andremo a affrontare anche importanti, eventualmente in un altro incontro anche con voi, con TELS. C'è tanto da lavorare, ma dobbiamo partire dalle cose buone che abbiamo fatto. Grazie Sindaco di Donato.